I tempi cambiano e tutto brucia veloce, i tempi cambiano ad alta voce e ti confondono, mentre fai finta di niente, ti cambiano per sempre. Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti qua stasera. Io sono Emanuela Rosaclot, sono giornalista, dirigo la rivista Bell'Italia e la rivista Gardenia e come tale sono estimatrice profonda e conoscitrice del territorio del biellese che ha tanto da dire e da raccontare sia sul fronte dei giardini sia sul fronte di quello che per Bell'Italia è la storia principale. L'Italia da scoprire, l'Italia minore che poi minore non è, il nostro patrimonio di arte e di cultura. Siamo qua a parlare di Biella, futuro presente. Il pomeriggio si svolge così, dopo l'introduzione che avremo Franco Ferraris, presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Biella che chiamo a salire un attimo con noi e Federica Chilà che è anche l'organizzatrice. Qua si trovano dei microfoni in giro, dopo un'introduzione che spiega come nasce, perché siamo qua oggi, dopo vedremo il film, un film documentario e quindi avremo un momento di incontro con il regista Cecconello che ci parlerà di questo film e poi Michelangelo Pistoletto e Silvia Vallone che sono i protagonisti faranno una conversazione con noi su loro Biella, fra presente, passato e futuro e poi alla fine saluteremo anche gli altri ospiti di questo documentario che sono qua con noi in prima fila. Chi vorrà poi alla fine potrà fare delle domande. Quindi lascio la parola a Franco Ferraris. Grazie molto, mi sentite sì. Bene, buonasera a tutti e ho sentito grazie per la vostra partecipazione perché è molto importante, perché questa è una delle nostre prime uscite importanti, diciamo, che cerchiamo di comunicare sempre di più, Biella al di fuori dei suoi confini. Quindi ci dà molto coraggio, ci dà molta forza per il futuro questa bellissima presenza. Il filmato che andrete a vedere io lo trovo una bellissima testimonianza di affetto, diciamo, di visione sul nostro territorio perché avrete dei protagonisti che sono anche ritornati a Biella o hanno trovato in Biella un punto dove poter svolgere la loro attività, la loro creatività, il loro sogno e quindi questo è un punto molto molto bello, molto interessante. Biella che poi è vicina, se pensate. Siamo a un'ora, un'ora e dieci di macchina da qua, quindi raggiungibile. Stamattina c'era una giornata bellissima con delle montagne fantastiche, quindi non siamo solo grandi esportatori di manufatti tessili nel mondo, ma siamo a questo punto, vogliamo essere anche esportatori di un certo stile di vita, di un posto in cui si può stare veramente bene, molto bene e anche estremamente organizzato, estremamente strutturato per far vivere bene le persone, perché tutte le nostre strutture che partono dagli asilo nido fino a uno degli ospedali più moderni e più nuovi che ci siano in tutta Italia. Quindi è un posto con mille prerogative per poter fare questo. Questo filmato, che ringrazio tutti coloro che hanno contribuito nella sua stesura, nella sua realizzazione, è una delle prime testimonianze e spereremo di farne molti. Abbiamo anche Paolo Zegna qua, presidente della Fondazione Biellezza, quindi il territorio ha dato atto, ha fatto nascere anche questa fondazione, che è proprio Biellezza, partendo dalla sigla di Biella, proprio per sempre di più anche qua comunicare. Quindi questo è un inizio di comunicazione, un inizio del nostro futuro. Adesso vi lascio a Federica, che è stata la nostra musa, è stata lei quella che ha voluto fortemente questo filmato. Quindi grazie Federica. Grazie. Innanzitutto saluto tutti gli amici biellesi e tutto il pubblico milanese. Mi fa veramente piacere questa sera avere qui questa sala così mista, anche in cui possiamo veramente confrontarci e portare a Milano il meglio di Biella. Perché davvero per il territorio è un momento molto importante di comunicazione. Questo film fa parte di un percorso molto più ampio che il territorio ha intrapreso per raccontarsi in modo nuovo. È stato per noi naturale, in occasione del trentennale, pensare di realizzare un film, un documento, che con il linguaggio magico proprio del cinema, ci permettesse di raccontare il nostro territorio, a chi ancora non lo conosce, ma anche ai biellesi. Perché la comunicazione va nei due sensi, chiaramente, verso chi non ci conosce e verso invece chi il biellesi lo vive tutti i giorni, ma magari così non l'ha mai visto. Ringrazio tutti i partner che hanno collaborato e chiaramente è stato un percorso condiviso e molto stimolante. E davvero speriamo come fondazione che questo film, che mettiamo a disposizione del territorio come regalo per i trent'anni dell'ente, possa essere il punto di partenza per una narrazione nuova e attrattiva rispetto a chi vorrà scegliere il biellese come luogo di vacanza o magari anche, perché no, come luogo di vita. Perché, come giustamente ricordava il nostro presidente, è un luogo che ha moltissimi servizi, è vicinissimo alle grandi città Milano e Torino, comunque vicino in un modo che oggi con le nuove tecnologie ci permette di pensarlo più vicino, penso allo smart working, a tutto quello che è il mondo che è cambiato post-covid e quindi davvero il territorio oggi e soprattutto dopo la candidatura UNESCO si vuole proporre come luogo in cui vivere, in cui abitare, ma anche come luogo ideale. Domani firmerà il Città Studi con l'Università di Torino una convenzione ventennale che porterà a Biella un corso unico in Italia, totalmente in inglese, una laurea magistrale proprio dedicata alla cultura, all'heritage e anche alla valorizzazione del turismo. Questo è un passo importantissimo, ci dà un orizzonte di senso che tra l'altro ci viene appunto da fuori, dall'Università di Torino e sono sicura che ci porterà moltissimi nuovi studenti che potranno così scoprire Biella e aiutarci a comunicarla ancora meglio. Quindi grazie a tutti e grazie a Manuela. Allora facciamo partire questo filmato, siete pronti a entrare in questa oasi di biellezza. Il biellese è come un'isola, non ci arrivi se non ci vuoi davvero arrivare o se non ci sei nato. È un luogo di confine, cioè una muraglia alpina che ha un profilo che riconosci subito. Cinque valli, i torrenti, c'è tanta, tantissima acqua e questa acqua ha scavato fino a valle, fino alla pianura e ha dato anche vita a tante fabbriche, antichissimi lani finici. Ma uno degli aspetti che all'inizio da bambina non vedevo ancora bene ma che già sentivo come miei era proprio questo incontro tra le fabbriche, tra le industrie, le vecchie ciminiere e la natura e tutto quel verde. Però me ne sono dovuta andare per capire davvero questo territorio e per capire quante storie e quante occasioni contenesse. E quindi da lontano ho iniziato a tornare, prima timidamente, poi sempre più attratta, perché non conoscevo tutti i santuari, tutte le storie del lavoro, ma anche le leggende di questo territorio. E quando l'ho scoperto ho iniziato a innamorarmi così tanto da vederlo come una nuova opportunità. Penso che la fine di un mondo, il mondo industriale, l'era da cui veniamo, abbia reso questo territorio come di nuovo vergine, come tutto da conquistare. Michelangelo Pistoletto l'ho conosciuto prima attraverso una delle sue opere, La Venere degli Stracci, che ho visto proprio a Città dell'Arte la prima volta. e mi ha colpito tantissimo, perché la bellezza non solo della Venere, ma soprattutto di quegli stracci, di quei tessuti, mi ha ricordato anche proprio la mia storia di ragazza nata a Biella tra i lanifici. Infatti tu testimoni come bisogna andare via, io sono andato via molto presto, per tornare, e non sono tornato troppo tardi, tornare qui con la conoscenza, il sapere, io sono sempre stato avido di conoscere, di sapere. Ecco che la Città dell'Arte a Biella vuole dire questo, vuole dire luogo in cui si raccoglie tutta questa esperienza, questa conoscenza, e si prosegue in questa ricerca e in questa conoscenza, qua. Quindi stiamo facendo qui a Biella un'operazione per il mondo. Siamo veramente una fucina di nuova città. E secondo me Biella, per tutte delle sue caratteristiche, che ha appunto natura, un'enorme storia industriale finita, che però ci ha lasciato degli spazi molto anche suggestivi dove immaginare una nuova comunità, delle nuove idee, una nuova creatività, ecco che può essere un serbatoio di sperimentazione, perché siamo in un momento storico, talmente critico, emergenze climatiche, pandemie, dove davvero non abbiamo più niente da perdere, se non usare creatività, idee, cultura, per inventare il nuovo. Quindi, tu non hai questo sogno di vedere il biellese magari come primo grande esperimento di una società nuova, di un mondo nuovo che finalmente riesce a essere vivo dopo quello industriale e basta. Io ho avuto la fortuna di creare Città dell'arte a Biella, perché Biella ha tantissime caratteristiche che non si trovano in altri posti. L'industria è sparpagliata nelle valli, non c'è stata la concentrazione nelle metropoli dove l'industria crea il dormitorio come periferia, in scatola la gente, milioni e milioni di persone in scatolati. Le fabbriche erano legate all'acqua, alle cadute dell'acqua e quindi tutte le valli diventavano buone per l'industria. Quindi gli abitanti dei villaggi andavano a lavorare ma abitavano già in un posto industrializzabile ma nello stesso tempo agricolo e quindi questa doppia vita agricoltura e industria è sopravvissuta. Quindi i villaggi sono rimasti, i villaggi di oggi sono i comuni di oggi i comuni di oggi sono la città sparsa del biellese ecco perché io oggi parlo di città arcipelago Biella città arcipelago noi stiamo preparando appunto dopo il riconoscimento di città creativa non solo Biella come comune di Biella ma 80 comuni piccoli medi grandi sono parte di questa famiglia di questa famiglia Biella famiglia nel senso che c'è una parentela culturale una parentela professionale una parentela diciamo così atavica di vita comune che ritroviamo antica ma è tutto così vicino al necessario oggi alle necessità di oggi creare una nuova rete non soltanto mondiale ma una rete locale una rete molto ricca capace di sostenersi senza bisogno di ricorrere ai grandi poteri ma pian piano produrre i grandi poteri con le piccole organizzazioni cellulari e Biella può essere una cellula nuova per un corpo nuovo dopo il mio primo romanzo io sentivo di aver bisogno di tornare a Biella dove ero nata cresciuta da dove me ne ero andata e per capire me stessa dovevo di nuovo capire da dove venivo e così ho iniziato a fare delle ricerche a ritrovare dei vecchi amici e ognuno mi raccontava che fine avevano fatto le persone del liceo che lavori dove vivevano e tra questi racconti mi hanno raccontato di Riccardo Mazzucchetti che a un certo punto aveva deciso di acquistare una decina di mucche e di fare il pastore transumante appena ho sentito questa storia mi sono talmente illuminata talmente appassionata che ho subito voluto conoscerlo e costruire addirittura un personaggio letterario che gli assomigliasse e che poi mi ha guidato verso proprio la stesura del mio secondo romanzo e devo a lui tutta una scoperta con nuovi occhi della Valle Cervo che poi mi è rimasta nel cuore come una radice vecchia e nuova ci rifacciamo sempre alla tradizione alla montagna ai nostri animali alle nostre erbe spontanee e quello che la terra ci dà è un'agricoltura semplice quasi tradizionale quindi tu sei in qualche modo tornato in Valle Cervo una valle da cui appunto molti se ne sono andati nei decenni in cui come dici tu sono rimasti tanti spazi vuoti di lanifici chiusi e ti sei ripreso un mestiere del passato insieme a Roberta tua moglie però con un'ottica che guarda al futuro e anche con una creatività nuova e hai dimostrato che non è una scelta naifo o poetica è piena di poesia però anche piena di realtà sì sì poesia c'è quando c'è il bel tempo e invece quando ci sono le giornate di pioggia di nebbia di freddo di neve la poesia scema un po' però c'è sempre l'ideale che accompagna l'agricoltura sostenibile deve essere un obiettivo del futuro e la cosa che mi colpisce di questo territorio e anche forse un motivo per cui ci torno sempre è il fatto che ci sono persone come te che a un certo punto hanno deciso di investire passione energia che hanno azzardato appunto messieri che magari ti ridono dietro e ti dicono ma dove pensi di andare tu con le mucche e invece hai creato una realtà che è punto d'incontro che è un'uova nuova conoscenza riscoperta del cibo di anche hai rivitalizzato dei pascoli quindi hai creato bellezza e questo lavoratorio di coraggio è qualcosa di particolare che io ho visto accadere qui nel Biellese nel Biellese in particolare negli ultimi anni c'è stato proprio quasi un ritorno alle tradizioni all'agricoltura alla pastorizia e tu come te lo spieghi questo ritorno? credo che sia una costante della natura umana dopo magari epoche di benessere sfrenato di consumismo di onnipotenza alla fine questo crea dei problemi crea delle situazioni che non sono più sostenibili e allora si ritorna indietro alla natura certo non si può pensare di vivere in maniera primitiva le comodità e la tecnologia sono anche al servizio di queste cose qui anche ben venga la fibra ben venga la possibilità di avere internet nelle case anche per il fatto come abbiamo visto adesso del lavoro da casa in tutte le stagioni c'è la meraviglia dei boschi incontri qualche animale selvatico che ti fa da compagnia respiri aria pura anche qui c'è anche un discorso della salubrità e della salute proprio dell'uomo però un'altra cosa che mi piace della tua storia e anche della filosofia che ci sta dietro perché poi tu sei anche una persona che ha studiato che porta anche nei suoi formaggi la filosofia la storia che hai letto quindi c'è anche una scelta culturale però c'è anche proprio un'ambizione a dire non lo faccio solo per me ma lo faccio per un angolo di mondo che voglio che sia migliore sì 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 certo e credo che dovrebbe essere un po' così per tutti perché ognuno come cura il proprio giardino davanti a casa il proprio cortiletto perché non può ampliare la sua visione e avere magari un bosco suo un pezzo di prato fuori dal paese tenuto bene del bello l'uomo non è mai sazio quindi la bellezza aiuta a vivere bene c'è sempre questa idea speriamo che domani sia migliore viviamo il presente no se domani tra 15 giorni sono in ferie però tu le ferie non le hai ma questa è una scelta non è un problema è bello è una scelta che riposa la natura riposi tu quindi è proprio un accordo un accordo la tua vita il tempo della tua vita il tempo delle stagioni del fieno sì sì forse quello che insegna l'agricoltura la natura l'allevamento è proprio aspettare i tempi per me tornare qua e venire a parlare con te e conoscere la storia che c'è dentro un formaggio favoloso che poi appunto è il mio nutrimento quindi viene a far parte di me è una conoscenza che per me è importante io non riesco più a pensare in termini turistici la vita cioè per me la vacanza diciamo dalla normalità è diventata tornare qui per conoscere c'è tutta una creatività nuova sì è abbinare la tradizione con quello che è il mondo stare al passo col mondo lasciare una una valle una situazione che sia fruibile per chi viene dopo non dico che sia un obbligo però è un imperativo io e Michael Silverman andavamo a scuola insieme nello stesso liceo classico di Biella e non ci siamo mai incontrati e mai conosciuti però poi curiosamente io ho sentito sempre parlare di lui in Toscana perché andava all'università a Firenze e poi a Milano quando si è trasferito lì e continuava a avere alle orecchie questa leggenda di questo ragazzo biellese dal nome americano che se ne andava in giro per il mondo e poi a un certo punto la grande svolta è tornato a Biella non solo a Cerione e ha piantato dei meleti e ha cominciato a costruire il suo futuro attraverso le mele sei stato ultra creativo cioè non è che hai detto io prendo un antico mestiere e lo faccio sopravvivere cioè l'hai riattraversato sì perché non ho questa forma di diciamo così di nostalgia del passato c'è un grande rispetto però ma questo è molto importante c'è la componente creativa sì c'è l'abbiamo penso che equivale a dire vitale per me cioè creativa barra vitale stiamo dicendo la stessa cosa cioè un modo dinamico e connesso a quello che cioè che succede che succede intorno per cui questo rende molto interessante essere vivi adesso poter lavorare dialogare adesso cioè sento tutta questa questa vitalità intorno perché tu pensi che comunque questo è il momento storico in cui o riesci davvero a dire ripenso il mio modo di vivere con l'ambiente con gli altri oppure ho perso un'occasione che forse anche l'ultima perché poi insomma l'ambiente ce lo sta dicendo cioè un paradigma che ha funzionato per tutta una serie di decenni cioè non funziona più e quando sposti non è che cambi che dici oggi faccio le mele domani faccio le pesche quando ti trovi a dover ripensare il paradigma che vuol dire lo schema di pensiero lo schema logico la logica cioè se uno onestamente dice ma io non sono felice non sto bene ecco questa cosa qui apre il mondo cioè bisogna lavorare sulla vitalità interna se si vuole essere attrattivi cioè bisogna rendersi vitali se vuoi una mela devi lavorare sull'albero puoi anche dimenticarti della mela una volta che hai capito che vuoi quello basta non ci pensi più alla mela perché tanto devi pensare all'albero ok quindi il benessere delle persone e il benessere dell'ambiente secondo me questo è quello che io direi come un ragionamento sostenibile cioè circolare cioè di voler fare il paradiso in terra adesso questa è una parola grossa ma di quello si sta ragionando perché cioè suona esagerato no però è ambizioso e mettersi con quell'ambizione lì non muoversi per meno non muoversi per meno quindi cosa diresti a un giovane ma anche una persona che a un certo punto vuole cambiare beh che intraprenda il suo ritorno alla terra terra non necessariamente è un campo dove coltivare però la terra è ciò che ciò su cui camminiamo è una base ecco cioè che si interroghi su qual è la sua natura cioè la sua base cioè tu hai veramente rifondato la tua vita su un ritmo diverso da quello della grande città della produzione per il profitto e basta e questa questa vita che ha le domeniche a certi orari è una vita che secondo te è esportabile e può cambiare non solo appunto al tuo caso ma può cambiare davvero il vivere dentro un territorio e dentro vari territori è un nuovo paradigma è che c'è un segreto che dobbiamo scoprire bello e questa è anche la bellezza del biellese io da bambina andavo sempre ad Andorno a Sagliano perché i miei nonni abitavano lì e quindi facevo il giro di questi paesi e il cappellificio Cervo era una delle fabbriche che mi affascinavano di più non c'ero mai entrata però mio nonno non poteva uscire senza cappello quindi la leggenda il fascino di questo oggetto mi circondava dalla primissima infanzia poi come sempre ci vuole tempo passano i decenni torno ad Andorno torno a Sagliano per riprendere le fila di quella che è la mia storia e un giorno per caso abbiamo bussato e ci ha aperto questa ragazza piena di energia giovanissima che era proprio motore pulsante del cappellificio da lì è nata un'altra amicizia fantastica che mi ha permesso di conoscere tutta la storia che c'è dietro l'oggetto cappello e non solo scoprire che questo non è un oggetto del passato ma è pieno di vita e di futuro io vengo da una famiglia di cappellari fondamentalmente quindi sono cresciuta a pane e cappelli da sempre mi sono appassionata a questo prodotto che però non definirei prodotto per me è proprio un oggetto un'anima è un qualche cosa che mette carattere no? tu comunque sei appassionata di moda potevi stare a New York e invece hai deciso di stare qui a Sagliano Micca al capellificio Cervo sì perché io ho sempre creduto nel territorio bellese sono sempre stata molto radicata la mia famiglia mi ha insegnato valori molto solidi per me ogni giorno entrare al capellificio è come avere un'esperienza nuova è come creare ogni giorno qualcosa di nuovo ora quello che a me piacerebbe veramente fare e trasmettere è proprio indossare di nuovo questo capo d'abbigliamento cercare cercare veramente di valorizzarlo portare il biellese in testa sono con te in questa sfida mi ricordo tuo papà tu lavori appunto con la tua famiglia tuo papà una sera mi ha detto io vorrei che il cappello diventasse come la sneaker e mi ha colpito questa cosa perché per mio nonno in effetti lo era che oltretutto abitava qui vicino ad Andorno Micca per cui per lui era naturale uscire di casa e avere il cappello però nello stesso tempo c'è un valore c'è un linguaggio c'è una storia dentro il cappello per cui noi non possiamo pensare di dimenticarlo e il fatto che la sfida sia tornare a prendere una storia così anche grande epica e portarla nel futuro mi sembra una delle chiavi poi per reinventarlo anche il futuro qui nel biellese perché tornare qui perché ci sono dei tesori che ci chiedono una seconda vita e che ci possono anche migliorare e anche quello che avete costruito voi qui riabitando rimettendo colori feltro e persone che poi sono delle artiste no? le vostre sarte assolutamente sì sono veramente artiste e soprattutto mastre non so se si dica però mastre perché è una parola biellese sì una parola biellese coniata adesso sul momento cioè il mastro cappellaio e le mastre sarte perché loro impiegano veramente minuzia cuciono a mano danno quel valore aggiunto che si ha qui nel biellese che si ha qui in Italia quella mano d'opera che esiste ancora e che va conservata e va tramandata alle generazioni successive noi sentiamo sempre queste grandi marche di moda internazionali con questi nomi altisonanti questi no? simboli dell'uso planetario per cui le più grandi attrici attori famosi vestono questi marchi e poi scopri che questi marchi i cappelli no? le sciarpe sono fatti qui e non lo sa nessuno anche questo è meraviglioso perché quanta poesia in realtà quanta letteratura anche per me c'è dietro no? non solo così il bagliore del successo e della fama di certi marchi ma la bellezza proprio dei tessuti degli oggetti delle persone che li fanno le mastre mi piace tantissimo questa parola questo va fatto scoprire al mondo e quanto orgoglio cioè io sono dell'idea che bisogna veramente essere orgogliosi non bisogna scappare bisogna confrontarsi col mondo esterno e poi portare e ritornare per per creare un un'innovazione per creare un qualcosa di nuovo dare un valore aggiunto a quello che già è stato creato sono d'accordo con te assolutamente il mio sogno è che qua dentro possano venire tanti turisti a scoprire la bellezza di un processo produttivo di un'eccellenza perché poi diciamo la verità c'è stata una crisi economica spaventosa un certo mondo industriale è finito però la bellezza l'eccellenza non può finire e tu ne sei deve rimanere e soprattutto deve evolversi i problemi globali hanno un impatto chirurgico sulle dimensioni locali e quindi le dimensioni locali possono avere un impulso anche portare un contributo per modificare i cambiamenti globali bisogna tornare al locale sembra strano ma con l'idea internazionale mondiale in testa bisogna rigenerare il tutto partendo dal locale sul locale riusciamo a vederci riusciamo a incontrarci riusciamo anche ad accogliere però noi creiamo creiamo una situazione locale ampia e stesa dove la natura ci permette di respirare questo è molto importante noi dobbiamo avere qui la vacanza e il lavoro connessi questo è il punto perché se tu stai bene sei in vacanza se stai male non è non è il lavoro che ti fa star male è la condizione di lavoro che ti fa star male quindi noi possiamo invecchiare lavorando questa è la cosa meravigliosa che ci offre la tecnologia possiamo lavorare stando fuori dalle metropoli cioè in situazioni diciamo di arcipelago arcipelago civile e quindi il mondo nuovo lo stiamo proponendo praticamente in questa maniera qui a Biella sono andata via da Biella da tanti anni ma le amicizie più forti più durature della mia vita sono tutte qui e questo questo legame con le persone è uno dei motivi per cui io continuamente torno e ogni volta che torniamo tutti insieme qui quello di cui parliamo è l'ambizione 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 a non vivere soltanto per se stessi per il proprio stipendio per la propria casa per la propria famiglia ma anche per gli altri costruendo un senso vasto di comunità e riprendendo la visione il progetto di un intero territorio in un momento storico così drammatico e anche uno spartiacque così gigantesco vale la pena azzardare un paradigma nuovo un nuovo modo di stare insieme azzardare 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 eccoci qua allora chiamo il regista Manuele Cecconello se vuole salire un attimo su con noi e poi vorrei chiamare subito i protagonisti che vedo seduti qua davanti a me Michael Silverman Riccardo Marzucchetti e Benedetta Borioni venite su esistono davvero qua ci sono dei microfoni e facciamo un rapido giro partendo da te cosa è stato realizzare questo film documentario che è partito con Silvia Vallone e poi ha incontrato per strada degli altri protagonisti è stato ascoltare il mondo delle relazioni questo Silvia ci ha detto quando abbiamo cominciato a ragionare con lei cioè questo film possiamo farlo solo se diciamo la verità delle relazioni che io ho intessuto con questo territorio e che ho intessuto con alcuni dei miei più cari amici che ho ancora nonostante io e la mia opera letteraria abbiamo fatto il giro del mondo comunque nel biellese torniamo e torniamo arricchiti di un qualcosa che sentiamo non essere più solo nostro non aveva più senso solo per noi ma anche per tutti gli altri allora Michael Silverman questo nome americano cosa diresti magari ai milanesi che sono qua e che che non hai detto o che aggiungeresti alle cose che hai detto nel film ai milanesi che sono qui direi che beh che sicuramente il biellese è un territorio da scoprire e come è stato detto nel film insomma si percepisce questa dimensione del qualcosa di parzialmente ancora vergine e questo credo sia una potenzialità immensa direi in un momento così cruciale diciamo nella storia o nell'immaginazione del proprio del vivere insieme storico e che quindi il biellese ha una possibilità enorme dentro a questa sua questo suo splendore questo suo essere per certi versi magico io lo definisco così ancora pienamente magico e quindi questa iniziativa ecco è estremamente positiva in questo senso grazie Benedetta fa i cappelli in Valle Cervo l'abbiamo raccontato su Bell'Italia perché il capellificio aderisce anche questa manifestazione almeno aderito apriti moda per far visitare capire e cosa vuol dire fare bellezza perché i cappelli che fate sono bellezza in un luogo come la Valle Cervo beh allora fare bellezza vuol dire innanzitutto trasmettere la passione e l'amore per quello che si fa quando c'è passione e amore c'è tutto di conseguenza io come ho detto già nel filmato vengo da una famiglia che i valori della passione e dell'amore me li hanno trasmessi mi sono stati trasmessi lavoro con con mio fratello e mia sorella e non c'è niente di più bello che lavorare in famiglia andare d'accordo e quindi bisogna trasmettere passione bellezza è questo Riccardo Mazzucchetti qual è stato il tuo percorso quando è che hai deciso ce l'ha ce l'ha quando è che hai deciso che volevi tornare a vivere secondo il ritmo il ritmo del calendario più antico quello delle coltivazioni e dell'allevamento ma io sono sempre vissuto in altavalle mi è stato trasmesso l'amore e la passione verso l'ambiente la natura e gli animali da chi mi ha preceduto è stata una scelta che magari poco anni fa era in contotendenza però adesso sono contento di averla di averla fatta è stata forse trent'anni fa venticinque anni fa c'era si sperava in altre strade c'erano altre possibilità poi come dicono i miei amici qui il il percorso del mondo è andato come è andato un po' le crisi un po' ripensare al futuro all'ambiente e questo mi ha aiutato mi hanno aiutato anche i miei genitori mi hanno aiutato gli studi che ho fatto e poi forse la passione uno nasce con la passione c'è nel DNA quindi io ho solo non so come dire mi sono interrogato tante volte poi alla fine la decisione è stata è stata presa quindi è dentro di me come sono stati loro come attori non ci sono stati attori non c'è stata una sceneggiatura non c'è stata una scaletta avevamo solo come spartiacco e la pausa pranzo ovvero beh quindi in presa diretta praticamente si chi ha detto non ha nessun senso scrivere qualcosa relativamente alla dimensione affettiva che io vivo in questo territorio con i miei amici scriverla prima e poi replicarla cioè agiamo tutto come se fosse una chiacchierata tra amici che condividono le cose più importanti per loro allora mi sono reso conto come tutto poi quadrasse cioè se c'è un messaggio che appare con evidenza nel film al di là del significato dei luoghi e delle testimonianze è la centralità della narrazione il biellese questo è il piccolo primato se si vuole di questo film grazie a Silvia Vallone al stupefacente ping pong che ha fatto con il maestro Pistoletto il biellese con questo inizio di attività comincia a raccontarsi cosa rivoluzionaria perché perché il racconto la narrazione è proprio la distanza più breve tra due esseri umani per fare un'espressione un po' figurata fino a ieri la cosiddetto il cosiddetto marketing territoriale mostrava un'oste sulla soglia della sua trattoria che diceva il mio vino è il migliore del mondo punto istituendo una specie di assimmetria tra lui e tutti gli altri che dovevano fidarsi cosa abbiamo cercato di fare grazie alla dimensione letteraria narrativa che abbiamo voluto immettere in questo film anche sotto testo che passare da questo paradigma diciamo l'oste che dice il mio vino è il migliore del mondo cioè un paradigma di tipo promozionale muovere verso promozione traslare invece ad un paradigma diverso cioè l'oste magari scende dallo scalino della sua trattoria e dice il mio vino è questo vieni a berlo insieme a me venite a vederlo ovvero un paradigma di tipo della commozione cioè muoversi insieme verso qualcosa sì il marketing adesso lo chiama esperienziale però quando è vero è emozione allora niente io prima di di salutarvi vi ringrazio perché secondo me tutti e tre fate paesaggio perché la natura non è qualcosa che esiste a prescindere la prima legge della robotica soprattutto in un luogo come l'Italia la natura il paesaggio è lo sguardo naturalmente e il paesaggio è l'interazione fra l'uomo e l'ambiente quindi noi parliamo di cibo che disegna il paesaggio allora il paesaggio sono gli alberi di mele che hai piantato il paesaggio è un'architettura industriale che torna a essere viva e non è una rovina da visitare il paesaggio sono i pascoli perché lo so i pascoli sono dei prati fioriti bellissimi ma non esistono a prescindere se non passa l'animale a mangiare l'erba se non c'è la fienagione i pascoli non esistono torna al bosco ma non il bosco che ci piace immaginare il bosco che ci piace immaginare lo sanno benissimo la famiglia Zegna che hanno una importante eredità di bosco e lavoro e continua relazione fra l'uomo e la natura per cui il pascolo esiste perché c'è qualcuno che ci va e che ci porta gli armenti per cui vi ringrazio e proseguiamo la serata invitando sul palco i protagonisti di questo nuovo racconto di Biella Silvia Ballone e il maestro Michelangelo Pistoletto eccolo Silvia ce l'hai il microfono posso sedermi qui? certo assolutamente e proseguite idealmente il dialogo che avete splendidamente fatto in tv in tv nello schermo e io cercherò di disturbarvi il meno possibile due parole di presentazione anche se naturalmente i nostri ospiti li conoscono tutti sono due biellesi Silvia Ballone è scrittrice è nata nell'84 molto presto ha avuto il successo internazionale col primo romanzo Acciaio tradotto in 25 lingue oggi premio Campiello al quale hanno fatto seguito tanti altri libri fra cui uno Marina Bellezza ambientato proprio in Valle Cervo e l'ultimo Un'amicizia dove racconta tante cose poi ci torneremo e anche il suo rapporto il suo dialogo con una grande scrittrice come Elsa Morante vive a Biella vive a Bologna ma vive anche a Biella a parte del suo tempo libero liberato chi lo sa visto che è una scrittrice che ha la forza e il coraggio di farlo come principale mestiere è tutta la mia ammirazione Michelangelo Pistoletto nato a Biella nel 1933 è più difficile dire tre parole in un minuto e mezzo ma ci proviamo lui è nato nel 33 a Biella ma ci ha vissuto un anno poco più perché poi si è trasferito a Torino e da lì è poi partito per il mondo tenendo sempre il rapporto con Biella diciamo solo tre cose parliamo dei quadri specchianti nel 1962 gli americani si innamorano di questo lavoro lo vogliono rapire quasi diventa pop art parliamo della venere degli stracci del 67 l'arte povera quindi che preparata prima dal lavoro degli oggetti meno si arriva poi a questa reazione l'arte povera al consumismo anche dell'arte e poi con un salto temporale pazzesco ci lanciamo direttamente negli anni 90 quando fonda la città dell'arte a Biella e nel 2003 con il terzo paesaggio impone ancora il terzo paradiso non volevo parlare mi ha confuso Gilles Clement ma il terzo paradiso impone un nuovo un nuovo paradigma un nuovo paradigma dell'arte e i paradisi diventano diventano ambasciate ecco beh scusatemi ma è un'emozione stare vicino a lui ma va bene lo stesso e quindi ecco con loro un po' per seguire la trama di Biella futuro e presente abbiamo pensato di dialogare con tre tempi uno è quello del passato presente poi futuro quindi il passato inteso come le radici Michelangelo tu sei biellese e poi sei andato via presto ma sei tornato spesso anche se vivevi a Torino di Biella era tua mamma che cos'è Biella come radice per te? Biella la mia mamma ed erano anche a Biella diciamo i miei compagni d'infanzia i miei cugini che venivano a Torino noi venivamo qui si incontravamo sempre e quindi a Biella sono tornato sempre con i miei genitori certamente mio padre aveva aveva lavorato con Hermel Gildo Zegna tra il 30 e il 33 per fare questa grande operazione della storia dell'arte della lana erano dei lavori che sono rimasti poi sono stati ripresi dopo la guerra eccetera e io nel dopoguerra seguendo mio padre sono venuto qua ho conosciuto Hermel Gildo Zegna personalmente e poi uno dei tanto per fare una piccola storia perché le storie piacciono anche a me a volte Aldo Zegna figlio figlio di Hermel Gildo è stato tra i miei primi collezionisti anche lui e poi con Anna Zegna e Franco lavoriamo oggi e tutta la famiglia Paolo eccetera quindi è una cosa bellissima questo continuare io ero nato ero nato a Trivero ancora prima di nascere sì perché tuo papà non era di Trivero era di Susa mia madre era di Trivero mio padre era lì e l'ha incontrata proprio per il lavoro sì era lì che lavorava mia madre voleva imparare a disegnare dipingere e hanno fatto insieme un'opera d'arte che sono io eccola e allora chiediamo anche a Silvia le sue radici biellesi affondano nell'infanzia fino a quando hai vissuto a Biella sì vorrei iniziare come il maestro cioè Biella è mia madre anzitutto e prima ancora mia nonna ecco e allora si capisce che avevate qualcosa questa intesa che si vedeva anche se l'hai conosciuto con la venere degli stracci però abbiamo una madre comune abbiamo una madre comune è vero per me proprio è il mucrone che vedo ogni volta che torno sulla 4 vedo il mucrone per me quello è proprio la prima lettera dell'alfabeto è un capezzolo è proprio l'inizio e sono legatissima a a questo a questo luogo perché mi ha vista nascere perché mi ha cresciuto e nei luoghi le persone non muoiono oggi mia nonna non c'è più mio nonno non c'è più e io ho passato praticamente tutti i pomeriggi dopo la scuola con loro eppure ogni volta che torno a Biella io li vedo io li sento i luoghi hanno questo potere di tenere il passato vivo e il passato è la nostra storia quindi e noi siamo storie quindi per me quell'infanzia è proprio la mia radice per dire un piccolo aneddoto io ero talmente entusiasta di passare la mia infanzia in Valle Cervo insieme a mia nonna che mi portava lungo il torrente Cervo che in un tema alle elementari ho raccontato queste giornate ho detto che il Cervo era il Po perché per me era il più grande fiume italiano e naturalmente è stato considerato un errore però questo per dire che l'inizio ha un ruolo enorme nella nostra vita e ci insegue per tutta la nostra vita e perché sei andata via? perché poi sono diventata un'adolescente e come giustamente secondo me gli adolescenti devono fare devono litigare devono ribellarsi con la mamma soprattutto se sono femmine che ancora me lo ricorda e quindi ho dovuto andare perché era giusto che io vedessi quanto era grande il mondo dove potevo stare e quindi me ne sono andata proprio pensando provincia basta voglio la grande città voglio andare via e proprio con questo senso in cui appunto la provincia era un luogo del passato e poi però mi ha fregato lei Michelangelo a parte il primo anno tu sei vissuto in una città anche io sono torinese chiamarla grande città oggi però per me è una grande città una città importante negli anni 60 rapporti internazionali importantissimi e poi però ti volevano rapire quelli di New York qui siamo saltiamo saltiamo no città Torino città Torino era importante penso che sia importante citare quel momento a Torino perché lì ecco io a Torino non ho sentito il bisogno di andare oltre di andare tanto più lontano perché a Torino grazie forse proprio all'industria e a questa crescita di un mondo vivo attivo venivano esposte delle opere degli artisti americani giapponesi tedeschi francesi d'avanguardia quindi il mondo veniva a Torino questo lo dico che è importante anche perché credo che anche per noi biellesi sarà importante che vadano via tutti e poi tornino ma è importante anche portare qui il mondo questo mi sembra importantissimo ecco perché noi a Città dell'Arte cerchiamo di fare anche questo di portare qui gente nel mondo ma forse dobbiamo farlo molto di più più cultura più arte più cultura e in altra parte connessa poi invece con quella che è la vita di oggi che cerchiamo di sviluppare appunto con la città Cipelago eccetera sì perché la seconda domanda che volevo fare è quella sul presente cioè quella sul ritorno anche se il tuo ritorno Michelangelo risale agli anni 90 al 91 quindi come mai hai deciso di ritornare a Biella come è successo? guardate che io ho lavorato molto fammi vedere quell'edificio industriale che mi hai fatto vedere prima là in fondo fallo vedere anche a loro io credo credo io non sono credente ma la parola io uso la parola credo quando c'è qualche cosa che mi convince e credo nel caso io il caso non ci gioco con il caso il caso me lo faccio amico prendo le cose che arrivano che succedono e in qualche maniera cerco di elaborarle l'arte è anche un'elaborazione continua e l'elaborazione secondo me del caso e quindi per caso era stato chiesto di venire a Biella per vedere una mostra di opere mie che erano state presentate in una galleria e che erano state comprate non da me ma opere presentate lì e io sono venuto e ho detto ah bravo la mostra funziona bene e mi hanno detto ma cosa fai adesso quali sono le tue intenzioni sto cercando un luogo per fare un lavoro nuovo per l'arte che è mettere l'arte in attività diretta con la società e quindi creare un grande laboratorio in questo senso e guardando fuori dalla finestra dico ecco per esempio vedi quella fabbrica là sotto sarebbe l'ideale ecco una cosa così mi dice ma guarda quella fabbrica l'è dismessa perché avevo capito che era dismessa quella fabbrica lì è in vendita insomma per farla breve dopo mezz'ora avevo già fatto un assegno e fatto un compromesso ecco quindi rapidissimo quindi il ritorno rapidissimo perché il caso ha voluto che io tornassi a Biella ecco perché credo nel caso e Silvia per te il ritorno è un ritorno parziale temporaneo perché tu continui a vivere a Bologna con la tua famiglia però torni molto spesso a Biella e sempre più volentieri quando è che si matura la necessità del ritorno il desiderio del ritorno mi piace molto la teoria del caso da accogliere da acchiappare e in qualche modo ecco per me non si è trattato proprio di un evento casuale però neanche di una decisione di un'intenzione semplicemente io tornavo tornavo per trovare mia mamma i parenti gli amici che erano rimasti lì oppure durante le vacanze tutti gli amici andati fuori poi tornavano e quindi ci si ritrovava tutti insieme e ogni volta notavo aggiungevo un giorno aggiungevo due giorni d'estate ho iniziato a allargarmi facciamo una settimana nel biellese adesso io ci passo mesi il blocco estivo è praticamente tutto nel biellese sei transumante anche tu sono transumante anch'io perché l'ho riscoperta cioè l'occhio con cui io la guardavo quando me ne sono andata è completamente cambiato ed è diventato l'occhio di una persona che pensava ma io davvero sono andata qui perché la maggior parte del territorio biellese dei santuari dei borghi delle valli io l'ho scoperto nell'età adulta e anche in questi anni non parliamo con la pandemia in cui ci siamo tutti detti ma evitiamo di andare lontano siamo qua ed è stato un forziere perché è vero che biella non si racconta eppure se si raccontasse verrebbe fuori di tutto infatti io sono felicissima di questo inizio di essere stata coinvolta sono molto grata perché per me raccontare biella è proprio un atto di gratitudine e di restituzione per come questo luogo mi ha educata mi ha insegnato anche ad avere fame di sogni mi ha insegnato anche a essere indipendente e quindi adesso per me il minimo che io possa fare è raccontarla bello Michelangelo riprendiamo questo tentativo di rapimento di New York che prima quando mi hai raccontato questo e parliamo anche di quell'altra idea del centro del mondo della cosmogonia dove una cosa per volta una cosa per volta qual'era la prima? New York beh ecco io però ho conosciuto ripeto a Torino quello che stava succedendo nel mondo e l'ho confrontato con quello che stava succedendo a Torino e io a quel momento lì dovevo lavorare lì e confrontarmi col mondo non con quella provincialità artistica che viveva la città la scommessa era enorme la scommessa dell'arte e quindi ho pensato che dovevo fare qualche cosa io personalmente che fosse in grado di rispondere a quello che stava succedendo anche criticamente e quindi ho realizzato appunto cercando me stesso la mia identità ho dovuto utilizzare diciamo lo specchio per fare il mio autoritratto e l'opera d'arte per me è diventato il quadro è diventato specchiante e quindi nello specchio quando io disegno questa formula e dico io tu noi nello specchio ci siamo tutti noi non sono più da solo ecco che la mia identità è diventata io tu e noi perché tu sei con me dentro all'opera d'arte siamo insieme e quindi di lì è scattata la scintilla dell'interazione col mondo non soltanto più un atto contemplativo dell'opera ma un contempla attivo sono passato dal contemplare all'attività ma New York allora sono stato immediatamente accolto nella più importante movimento di quel momento che era la pop art americana quindi c'erano i nomi di Andy Warhol Rosenberg Jesper Jones eccetera e poi Pistoletto era l'unico americano non americano e quindi in che cosa consisteva la pop art consisteva nel essere perfettamente oggettivi nell'espressione dell'arte non soggettivi ma raccontare qualche cosa che è di tutti che tutti quanti vivono solo che gli americani questa è la differenza raccontavano come concetto universale il consumismo mentre invece il mio concetto universale era l'universo perché nello specchio non c'è soltanto la coca cola c'è tutto quello che noi abbiamo davanti quindi c'è uno sguardo che va nell'infinito che raccoglie le persone che si guardano uno per uno davanti al mio quadro diventano attori e artisti con me questo è stato il grande cambiamento allora quando Leo Castelli mi ha detto devi venire a stare qui se no perché tu hai un grande successo però come dire che ci fai qua che non sei dimentica di essere europeo e vieni stare con noi qua un'altra grande famiglia se no per te però per te qui non ci sarà più niente da fare e lì io ho dato come risposta un lavoro che ho realizzato nel 65 e nel 66 che sono gli oggetti in meno cosa vuol dire oggetti in meno vuol dire che ogni oggetto era si sottraeva all'altro cioè non c'era nessuna coerenza tra gli oggetti per cui se il mio lavoro poteva essere considerato un marchio di fabbrica io non ero il marchio di fabbrica perché ogni lavoro era diverso quindi chi era pistoletto ho distrutto la mia identità per mantenere la mia identità e quindi e quindi di lì è nata l'arte povera l'arte povera io sono diventato un artista in questo senso radicale ogni lavoro era una radice nuova un fatto nuovo un elemento diverso dall'altro quindi quando io parlo di diversità love difference parlo parlo di di qualche cosa amare le differenze amare le differenze perché l'unica uguaglianza che abbiamo sta nelle differenze nel connettere le differenze e quindi città dell'arte nasce nasce come con questo concetto di mettere insieme le differenze cioè l'arte l'artista che non solo connette i diversi saperi artistici la musica la poesia il cinema la danza non solo ma connette tutti i vari settori della vita sociale perché nei settori della vita sociale ci sono tutte le differenze che hanno un valore fortissimo che però a volte e noi lo vediamo molto chiaramente creano diciamo delle tensioni e degli squarci delle guerre insanabili e quindi sanare le differenze e per me è città dell'arte bellissimo grazie silvia sempre restando un pochino sulle radici le prendiamo da un'altra parte le prendiamo dal tuo ultimo libro un'amicizia tu hai sempre scritto l'adolescenza hai dato meravigliosa voce all'adolescenza al dolore alla frattura alla fatica dell'adolescenza oltre che alla fabbrica e poi con questo romanzo è la prima volta che scrivi dall'età adulta guardando l'adolescenza e come guardare da lontano la tua biella? beh è una domanda difficile io ho sempre raccontato è vero l'adolescenza la giovinezza che è l'età in cui tu decidi chi vuoi essere è come una seconda nascita per cui non sei più chiamato a essere il figlio la figlia dei tuoi genitori sei chiamato a essere te stesso e diventare se stessi è qualcosa di difficilissimo perché crescendo veniamo tutti traviati e convinti in maniera maggiore o minore a essere invece chi desiderano gli altri che noi siamo soprattutto in una società come questa che è una società che ci chiede assolutamente di essere dei vincenti di essere delle maschere di successo perfette che non soffrono mai che non hanno mai dubbi però in tutta questa rincorsa c'è qualcosa che poi alla fine ti chiede i conti e sei quel tu quel tu che magari sognavi da ragazzo o da ragazza ecco biella attraverso le amicizie mi ha insegnato come abbiamo anche sentito prima dai miei amici che è la passione che conta che è anche il fare qualcosa perché tu ami quello che fai e ami il luogo in cui lo fai e quindi il gioco della felicità la partita della felicità che è una partita difficilissima per chiunque si gioca sullo slancio verso gli altri si gioca in un luogo preciso e si gioca alzando l'asticella dell'ambizione si gioca sul noi per tornare a Michelangelo io sono completamente d'accordo con Michelangelo ogni volta che lo ascolto intretutto penso sì devo fare così nella mia vita perché dice proprio delle cose che ci servono nella vita quindi per me l'ambizione è molto importante vuol dire ambire tendere a avere avere uno scopo no l'ambizione è importantissima perché una volta si diceva quando un figlio si dava un po' un diario vedevano uno che si dava delle aree e si diceva brutto ambitius era un fatto negativo invece l'ambizione è importantissima scusa l'interruzione hai detto una parola magica per me in un momento storico come questo siamo tutti provati dalla pandemia dalle crisi economiche adesso anche un conflitto di conseguenza come si fa ad essere ambiziosi in un momento come questo è proprio in un momento come questo che lo devi essere sapendo che però il fine l'ambizione non è il tuo successo individuale non è dire ce l'ho fatta ma è dare il tuo contributo a un pezzetto di mondo perché il mondo non ce la fai a cambiarlo ma quel pezzetto lì sì e se cominci da quel pezzetto lì hai cominciato hai messo in moto un motore quindi per me Biella oggi anche per pensare appunto al futuro è un luogo è tutta la potenzialità della parola provincia che da ragazzina mi sembrava il posto da cui andare via e adesso invece mi sembra il posto in cui tu puoi tornare per rimettere mettere in discussione proprio il paradigma produttivo sfruttamento di se stessi dell'ambiente degli altri consumare se stessi l'ambiente gli altri ecco in un posto come una provincia biellese di natura di storia di possibilità perché è una nuova frontiera a me sembra il far west nel senso più bello del termine prendi il tuo cavallo e vai perché è talmente nuovo abbiamo una foto meravigliosa fatta sull'Ippovia che però non posso mostrare ma ve la farò vedere si può azzardare si può azzardare una nuova frontiera con il cavallo Malboro Country questa è stata scattata a Biella sul Lippovia da recuperare e si può azzardare sei già verso il futuro a me piaceva fermarmi ancora con Michelangelo sul terzo paradiso sul terzo paradiso che nasce proprio a Biella anche il primo terzo paradiso raccontaci come è nato io primo sì dunque nasce nasce sulla sabbia ho fatto un disegno sulla sabbia ho preso una tavola e l'ho coperta di sabbia e poi ho voluto disegnarlo col dito però è partito questo simbolo parte dal simbolo dell'infinito che l'infinito è una linea che incrocia se stessa ed è il simbolo matematico di infinito ecco il concetto di infinito come ho detto prima è dentro al quadro specchiante è la stessa quello che noi vediamo che noi vediamo nel quadro nello specchio nel quadro specchiante quello che vediamo in quel momento prima non c'era c'è per un istante poi non c'è più allora è l'infinito l'infinito perché finisce non si ferma non finisce oppure oppure è un momento è un momento che lascia lascia il posto al momento successivo che è già diverso allora però poi è chiaro c'è una chimica universale che poi combina tutte le cose e dà una durata che non è solo dell'istante ma dà la durata della vita di ogni di ogni di ogni persona di ogni di ogni animale di ogni tutto ha una durata però la durata dell'istante è il presente infinito quindi il simbolo di infinito ho trovato che era perfetto perché perché incrociandosi la linea segna un punto e quel punto lì è il momento presente dell'infinito questo è il punto quindi l'ho identificato col quadro specchiante quindi quindi ho detto però però io nello specchio è vero che c'è questo c'è questo infinito quindi questo cambiamento continuo però io continuo a vivere continuo a vedermi per lo meno finché esisto su questo pianeta continuo a vedermi quindi voglio scoprire il finito dentro all'infinito ed è quel punto cioè la vita la vita vera allora ho incrociato due volte il segno la linea incrociandosi due volte è nato cioè quel piccolo punto si è allargato ed è diventato il punto centrale ed è in quel punto centrale che ho scoperto che tutti gli elementi contrapposti ecco che parlo di differenze tutte le differenze tutti gli elementi contrapposti trovano in quel vuoto centrale che è sempre vuoto ma è sempre vuoto perché permette l'incontro se fosse già qualcosa l'incontro non avrebbe l'incontro di tutti gli elementi contrapposti e contrari tutti e quindi nell'attimo dell'incontro al centro in questo cerchio centrale avviene la creazione quindi è la formula della creazione io non faccio soltanto l'opera l'artista che crea ma adesso so che cosa vuol dire creare e creare esattamente quello che fa la natura ma nello stesso tempo che fa l'essere umano perché l'essere umano parallelamente con la sua intelligenza crea così come natura crea non per fare la pubblicità a Cirio Cirio crea natura conserva terzo paradiso è in Umbria sotto il bosco di San Francesco è all'ONU tu le chiami ambasciate è andato ad Assisi ad Assisi nel bosco di San Francesco di Francesco è andato è andato su nella piattaforma spaziale per i sei mesi della piattaforma spaziale di quando c'era Paolo Nespoli e quindi e poi tu le chiami ambasciate sono circa sono 200 forse 201 settimana scorsa erano 199 quindi stanno crescendo ma le ambasciate nascono spontaneamente perché sono delle persone sono artisti ma non solo artisti soprattutto insegnanti soprattutto sono anche sono signore insegnanti delle scuole alimentari che sentono il bisogno di portare un nuovo modo di insegnare di creare di far crescere a partire dall'infanzia e quindi mettendo la capacità di creare come responsabilità già partendo dai bambini e non soltanto ripetere ma creare ripetere va bene perché noi si impara tutto attraverso la mamma la nonna i nonni i zii il mondo che si intorno ripetendo appena arriviamo a una certa età dobbiamo assumere la responsabilità di creare insieme a quelli che vivono con i quali stiamo vivendo i nuovi i nuovi abitanti e quindi questo è creare insomma non lasciatemi parlare perché non finisco più noi ti stiamo ad ascoltare qui se qualcuno vuole fare dei segni ma io vado avanti il terzo paradiso è diventato un simbolo che è facile da capire perché vuol dire che è stato usato l'ho usato anche proprio come terzo paradiso è stato detto prima io vorrei che anche nel film è stato detto vorrei che il paradiso terrestre il paradiso terrestre quello che fa le mele perché con il paradiso terrestre c'è qualcosa da dire paradiso terrestre perché il paradiso non è che lo vogliamo dopo la morte lo vogliamo qua e su questo dobbiamo lavorare il nostro impegno è andare in paradiso e se non ce lo facciamo noi non ce la fa nessuno eh? sì ma la parola paradiso sì ma un momento la parola paradiso viene dall'antico persiano paradiso 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 che vuole dire giardino protetto ecco che siamo di nuovo al giardino protetto nelle zone desertiche facevano delle piccole costruzioni tonde di pietre per riparare il centro dal vento del deserto e quindi permettere l'umidità della notte di far germogliare la natura e quindi gli orti sono nati così l'umanità stanziale è nata lì perché hanno hanno cominciato poi a fare le case sempre mettendo su pietre poi hanno fatto l'allevamento gli orti e l'allevamento sono stati due perché sono fermati invece prima erano raccoglitori e cacciatori nel paradiso precedente il primo paradiso il paradiso non esisteva era l'eden era l'eden il paradiso è il giardino ed è il confine è il segno tracciato intorno che crea il giardino certo ma non esiste a prescindere ma il muro assume dal segno che tu gli fai intorno non è giardino è natura è giardino ma è l'orto però è stato considerato miracoloso il fatto che gli esseri umani artificialmente lì nasce l'artificio riuscissero a far a far a far germogliare la natura dove la natura non è capace di farlo di farlo quindi l'uomo ha cominciato a pensare ma io posso sostituire la natura e noi continuiamo a pensarlo e abbiamo i mezzi oggi attraverso la tecnologia stiamo facendolo però stiamo danneggiando la natura nel contempo quindi oggi il nostro grande giardino che cos'è qual è il muro è l'atmosfera intorno alla terra il giardino ormai è planetario viene fuori un'influenza qui e l'influenza in 24 ore è tutto il mondo perché siamo velocissimi certo quindi dobbiamo fare attenzione perché abbiamo anche un potere enorme oggi abbiamo migliaia di atomiche sulla nostra testa abbiamo paura che se due litigano troppo si ammazzano tutti quindi anche bisogna capire che gli esseri umani oggi sono arrivati anche ad avere una responsabilità per cui basta un pazzo e la pazzia è umana e gli umani ne hanno combinati talmente tanti che non c'è da stupirsi che succeda quasi quindi bisogna cominciare a rieducare la società a rinvestire in pensiero responsabile libero responsabile ma investire investire vuol dire idealmente concettualmente ma anche economicamente perché noi dobbiamo adesso dire ma non è tanto per il fatto che sia un ideale quello della sostenibilità è che se se noi continuiamo a usare gli idrocarburi ci facciamo danno questo è chiaro ormai è chiarissimo però se noi eliminiamo gli idrocarburi noi eliminiamo un vecchio investimento l'investimento degli anni passati del novecento che deve dare la resa perché se noi dovessimo chiudere oggi il vecchio investimento metà della società muore di fame quindi il passaggio deve essere lentissimo ma non dobbiamo mentre sfruttiamo il vecchio investimento dobbiamo cominciare proprio con grande sicurezza e decisione a fare nuovi investimenti come quando si mollavano gli asini per fare gli automobili verso il nuovo e verso il futuro io tornerei su una parola che prima tu hai spiegato molto bene ed era la creazione che era la creazione artistica e chiederei a Silvia perché creazione la letteratura lo scrittore che cos'è la sua opera cos'è il racconto è creazione è ricerca è vissuto la letteratura che cos'è creazione se una cosa non la racconti non esiste semplicemente muore viene dimenticata la letteratura è quel luogo in cui tutti nessuno della storia con la S maiuscola e soprattutto le nessuno continuano a vivere continuano a parlarci e continuano attraverso le loro storie a farci capire chi siamo noi o chi potremmo essere investire io investirei in istruzione in scuola in libri nelle parole perché usare le parole raccontare le cose significa non solo farle esistere ma cambiarle cambiare una parola fa cambiare una cosa il nostro sguardo il nostro le nostre ambizioni visto che abbiamo usato tanto questa parola quindi ci serve la letteratura per me serve a vivere ma perché noi siamo storie anche per noi non siamo apparenze anche per noi che leggiamo serve a vivere però bisogna come servono le opere d'arte a vivere senza altro però leggere senza la parola è quello che stai tu dicendo non ci sarebbe un passaggio di memoria la parola è memoria perché una volta quando non sapevano né leggere né scrivere raccontavano tutto di padre in figli i figli e poi c'erano gli incontri gli incontri pubblici persino i ciarlatani andavano in giro a raccontare le storie è vero? ecco adesso poi abbiamo acquisito il carattere di stampa che hanno stampato il primo grande successo del carattere di stampa è stato che hanno potuto diffondere la Bibbia dappertutto vero? poi ecco ma oggi qual è il carattere di stampa di oggi? è la tecnologia sono sono le come dice la letteratura computeristica ecco quindi abbiamo una responsabilità grossa cosa ne pensi? no ma se noi dobbiamo scrivere scrivere le nostre storie ma non soltanto fare una fotografia o migliaia di fotografie da mandare ecco il mondo dei social è qualcosa che tu affronti con criticità ma le nostre storie attraverso internet raccontiamoci attraverso internet personalmente senza dimenticare i libri per un motivo secondo me internet è una risorsa enorme che però va usata con la cultura e qui torniamo sempre al punto di prima leggere ci serve a vivere ci serve a immaginare perché se tu leggi la storia di un altro e torniamo alle differenze tu quell'altro lo capisci e tu salvi quella persona e lui salva te perché conosci la sua storia non ti fermi al giudizio non ti fermi all'apparenza non costruisci i muri leggere ha un valore politico e morale civile enorme perché quando vai alle urne a votare se hai letto la storia di persone di migranti di persone che all'apparenza magari sembrano lontane ma le hai conosciute dall'interno e non dall'esteriorità tu hai un'altra conoscenza degli altri e siccome penso che in questo momento storico è la relazione fondamentale perché è dentro la relazione che tu fai cambiare le cose è dentro la relazione che tu trovi la felicità vera autentica che non è in solitudine gareggiando sui social a chi sembra più felice e a chi mette su maschere adesso è proprio il momento in cui le maschere vanno tolte e rispetto a questo anche Biella è obbligatoria e lo so questo ci arriveremo si spera allora andando per tirare le fila e chiudere e pensare al futuro abbiamo parlato dell'importanza delle parole raccogliamo dalla nostra conversazione come le mele da un albero le parole per il futuro io mi sono segnata nella testa che abbiamo detto ambizione abbiamo detto responsabilità parole per Biella per la Biellezza abbiamo detto ambizione responsabilità abbiamo detto creatività passione lettura e poi abbiamo detto differenze e abbiamo detto soprattutto noi vogliamo adesso facciamo l'infinito e noi siamo qua non so che ora abbiamo fatto va bene volete se qualcuno ha ancora delle domande o delle cose da dire ma penso che possiamo leggere guardare andare a Biella città creativa andare a visitare la fondazione Pistoletto leggere i libri di Silvia comprare i cappelli i formaggi le mele e contribuire con il nostro gesto a costruire questo noi io dico sempre anche si parla di un territorio più che di turismo mi piace parlare di viaggi vorrei chiudere con questo andare in un luogo noi invitiamo a visitare i luoghi d'Italia dicendo non vai a conoscere questo posto ma vai a riconoscerti in queste pietre in questo paesaggio volevo dire ancora una cosa che io ho scritto a città dell'arte città dell'arte Biella al centro del mito mito al centro da Torino e Milano benissimo al centro dell'universo grazie Franco Ferraris presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Biella 30 anni di attività veramente tantissime le cose fatte ma questa volta sembra veramente una voglia di rilanciare ebbè dobbiamo diversificare perché qui parliamo sempre solo di tessile invece qua parliamo del nostro territorio perché il nostro territorio è tante tante belle cose e quindi ringraziamo Milano che ci ospita per poter far vedere il nostro mondo le nostre cose che sono tante che vanno dai buoni vini al buon mangiare a un panorama incredibile un luogo incredibile quindi evviva Biella raccontiamo davvero il nostro territorio e che questo possa servire a intraprendere un cammino di una nuova scommessa ma certo noi biellese abbiamo sempre fatto grandi scommesse siamo abituati a girare il mondo siamo abituati a far conoscere quello che noi facciamo in tutto il mondo e quindi anche questo che sono alcune peculiarità del territorio dobbiamo farle conoscere questo sarà uno strumento che il territorio veramente potrà utilizzare a disposizione proprio perché racconta il territorio quindi si è già in mano qualcosa per in qualche modo farlo conoscere ed è proprio un omaggio che ha fatto la fondazione Cassa dei Rispermi di Biella per siglare i suoi 30 anni di attività ad aver ideato seguito insomma project manager di questo progetto Federica Chilà responsabile anche della comunicazione della fondazione Cassa dei Risparmi è stata una cosa molto articolata costruita un po' per volta sì assolutamente è un progetto a cui teniamo moltissimo è un regalo che la fondazione fa al territorio in occasione del proprio trentennale volevamo regalare al territorio uno strumento di comunicazione che raccontasse davvero questo straordinario momento che stiamo vivendo un momento in cui il biellese sta ragionando sul suo futuro e sta orientando la propria narrazione in modo nuovo quindi avevamo bisogno di un mezzo come il cinema affascinante capace di muovere l'immaginario la sensibilità delle persone e l'interesse e la curiosità soprattutto e quindi abbiamo scelto un regista molto sensibile ai temi biellesi e che ben li conosce come Emanuele Cecconello e poi avevamo bisogno di un interprete che fosse non soltanto un nome conosciuto ma qualcuno che avesse un legame vero reale col territorio e qui la scelta è caduta naturalmente su Silvia Vallone che oltre ad essere una rappresentante della giovane generazione che è quella a cui noi ci rivolgiamo proprio in occasione del trentennale la fondazione sta puntando moltissimo sui giovani perché sono loro poi alla fine il nostro futuro tant'è che avremo apro una parentesi avremo il 25 giugno a Cittastudi un convegno dedicato ai giovani e verrà creato proprio un manifesto fatto da 30 giovani under 30 sulla biella 2030 ispirato agli obiettivi ONU per quella data quindi chiusa la parentesi perché Silvia Vallone perché Silvia Vallone ha un legame vero col territorio è una biellese che si è allontanata da Biella e poi ci è tornata per scelta e quindi veramente lei si è lo dirà nel film rinnamorata di questo territorio poi ovviamente c'è Michelangelo Pistoletto che avendo insediato il suo terzo paradiso la matrice del terzo paradiso a Biella ha dato un segnale fortissimo perché davvero questo territorio si identifica con questo simbolo che è anche il simbolo della candidatura UNESCO e che vuole essere di ispirazione per cercare di raggiungere un modo nuovo di vita una vita in equilibrio tra tecnologia e natura ecco quindi che da questo insieme da questo dialogo tra questi due protagonisti è nato il film Andrea Quaregna questa fondazione adesso compie 30 anni una tappa importante e voi ovviamente per questa tappa avete messo in campo moltissime iniziative sì è una tappa importante perché i 30 anni delle fondazioni sono un momento di consapevolezza anche del ruolo delle fondazioni che non sono più soltanto un patrimonio a cui attingere ma diventa veramente un patrimonio di conoscenza anche di relazioni oltre che monetarie Interessante proprio questi progetti rivolti ai giovani L'idea di incontrare 30 giovani il 25 giugno che hanno fatto un percorso di riflessione sulla città nel 2030 realizzando un manifesto programmatico in qualche modo è un percorso che non si esaurisce in questo ma porta anche a progettare delle vere e proprie azioni insieme ai giovani sul territorio Maestro Michelangelo Pestoletto è stata un'esperienza particolare questa? Un'esperienza importantissima perché cosa vuole? Noi a Biella abbiamo pensato che possa diventare un punto un fulcro di trasformazione sociale esteso per cui questa iniziativa mi sembra straordinaria proprio perché crea coesione crea incontro crea rapporto e sviluppa quelli che sono i programmi che abbiamo insieme portato avanti negli ultimi 30 anni Ecco Biella sempre nel cuore? E beh per forza Biella riscoperta perché questo secondo me è molto importante riscoprire un luogo guardarlo con altri occhi è stata la mia esperienza sono andata via e poi tornando da adulta ho iniziato a innamorarmi a vedere delle potenzialità delle sperimentazioni possibili che prima quando ci abitavo non vedevo E' vero che proprio guardarla con gli occhi da fuori cambia una ottica diversa? Secondo me si ma questo vale in generale no? Per tutte le cose quello che è successo secondo me in particolare è stato anche ritrovarmi con tante amicizie tante storie di persone che hanno deciso di tornare a Biella dopo l'università o dopo comunque un'esperienza fuori per reinventarsi professionalmente affettivamente per rivitalizzare una parte di territorio con estremo coraggio e queste storie mi hanno francamente colpita Veramente speriamo che da questo momento da questo punto Biella forse prenda consapevolezza di quello che ha di quello che può fare del cammino che può intraprendere Secondo me la sfida in realtà è enorme ma è globale nel senso che Biella è un esempio un caso esemplare di una domanda che si fanno tutte le province d'Italia in realtà perché alla fine di un'epoca la fine di un'epoca industriale devi reinventarti un'identità a partire dalla storia che devi conoscere e del passato però devi azzardare un futuro diverso e secondo me Biella ha tutte le carte in regola per fare un grande azzardo Chi però ha azzardato tempi non sospetti è stato lei maestro Pistoletto abbiamo azzardato sempre l'arte azzarda se non azzarda è pura ripetizione non è viva non è nuova però la mia arte vuole includere la società quindi questo è un azzardo non tutti capiscono questo passaggio dall'egocentrismo dell'artista all'altruismo dell'opera che coincide con la società però adesso anni fa dicevano che quello che noi abbiamo cominciato a Biella era utopia mettere l'arte come motore di cambiamento nella società e adesso non lo dice più nessuno anzi come vede stiamo facendo dei passi abbiamo avuto la grande fortuna che proprio attraverso il simbolo trinamico del terzo paradiso abbiamo avuto il riconoscimento unesco di città creativa e quindi adesso non è questo un premio per il passato è un premio per il passato per quel che si è fatto ma come potenzialità un premio di potenzialità per il futuro e infatti ci stiamo lavorando seriamente per fare il futuro con addirittura con Biella città cipelago che include tutta la provincia 80 regioni 80 piccoli comuni piccoli medi la montagna il bosco le valli l'acqua con tutti i problemi che noi forse riusciremo a risolvere mettendoci insieme proprio con serietà adesso insieme proprio realmente e vi chiedo proprio un messaggio un coro anche va benissimo quel che cosa un messaggio che arrivi veramente nei cuori di tutti i biellesi che come dicevamo prendano coscienza e da ieri cominciano questo percorso i biellesi hanno sempre saputo crearsi individualmente adesso dobbiamo ricreare Biella diciamo complessivamente insieme quindi questo che era il viaggio attraverso le varie industrie della lana adesso diventa un viaggio verso il futuro sono pienamente d'accordo aggiungo visto il lavoro anche che faccio raccontiamoci apriamoci apriamo le nostre valli ai visitatori a chi ha curiosità di viverci anche una prospettiva proprio secondo me nuova nel senso conoscerci non consumare i territori usarli in quell'idea di turismo che ormai è già vecchio ma ascoltare ascoltare le nostre storie scoprire i nostri borghi le nostre valli la nostra natura la nostra archeologia industriale e tutto quello che sappiamo fare ancora benissimo piace moltissimo il vostro entusiasmo speriamo veramente riuscire a trasmetterlo grazie non so se riusciremo ma già mentre lo stiamo facendo ci troviamo meglio stiamo già meglio stare facendo è importante vuol dire dire mettersi in cammino che qualcuno lo faccia farlo noi Emanuele Ceconello regista di questo veramente nuovo lavoro particolare lavoro un lavoro che dovrebbe essere transitare proprio come messaggio per una rinascita abbiamo fatto di tutto affinché fosse la prima occasione per raccontarci cioè raccontare casa nostra senza nascondere nulla ma mettendo in evidenza quegli elementi che per noi sono scontati la pace il patto diciamo di rispetto dell'ambiente l'armonia che c'è in questa disposizione dei borghi tra le colline le valli insomma questa dimensione naturale del vivere dove sia possibile ovviamente coltivare un lavoro in remoto oppure alternative a quello che è la normale vita lavorativa intesa come la intendiamo fino ad oggi ecco questa dimensione naturale armonica è stata interpretata proprio da Silvia Vallone che ha voluto fare il film in questo modo cioè con i suoi incontri con i suoi amici perché venisse fuori proprio l'aspetto della relazione tra se stessi e tra gli altri e questa è relazione e diventa virtuosa diventa buona quando si ha si hanno i piedi nello stesso posto dove si ha la testa cioè dove si ha un rapporto col proprio territorio con la propria casa o con la propria nuova casa se uno volesse sperimentare di vivere nel biellese innovativo rinnovato ritrovato ecco ritrovarsi se stessi a casa propria ma anche invitare gli altri a casa propria con un sorriso sulle labbra che bello una visione veramente quasi celestiale speriamo veramente di arrivarci bisogna essere creativi anche nel vedere il presente ricco di contraddizioni dei problemi di tensioni internazionali inedite spaventose e di problemi sanitari non ancora risolti in queste frangenti drammatici bisogna riuscire a trovare alternative pensare in una maniera diversa e essere creativi fino in fondo altrimenti non ci sono porte che si aprono ma solo che si chiudono parlare di Biella e del biellese della mia terra e della mia attività è sempre particolare e emozionante e sono felice sono contenta che finalmente Biella riesca ad uscire e a farsi conoscere io ci tengo molto e soprattutto tengo molto al valorizzare il biellese e la mia attività è stato un inizio promettente perché comunque mettersi insieme intorno a un tavolino e ragionare di temi così interessanti e importanti per il biellese che in questa fase alla ricerca di una nuova identità ecco mi sembra il primo passo più che sensato quello di ragionare e riflettere insieme sicuramente è la forza delle idee che fa la rete quando le idee sono semplici chiare allora poi la rete si crea se le idee sono molteplici confuse poco chiare poco discusse non può crearsi una rete se non una rete di piccoli interessi ma che non è una rete che tiene